Alle nostre spalle il meraviglioso e maestoso Duomo di Piazza Armerina e poco più avanti il Castello Aragonese, un monumento impensabile all'interno della nostra Sicilia ed invece diventata la nuova casa del nostro inferno, l'Inferno di Dante, una sfida esaltante in una location emozionante, impensabile. Questa sera è il debutto, un debutto felice, un debutto vincente, la squadra estremamente compatta per uno spettacolo intimo, intenso e allo stesso momento epico. Un grazie, un grazie che va al pubblico, che ha applaudito di cuore reiteratamente e chissà che ancora si possa godere insieme per altre meravigliose sfide.